Un turno avaro di soddisfazioni con una vittoria, quella della Virtus Francavilla, un pari, quello del Monopoli ed un bruciante KO, quello del Biceglie al Ventura contro la Regina. Archiviata la pausa invernale, il campionato di Serie C è tornato in campo per il turno numero 21, che ha visto l'esordio sulla panchina dei nero-azzurro stellati del nuovo tecnico Rodolfo Vanoli. Per l'ex allenatore dell'Olimpia lubiana, la prima Bicegliese non è stata fortunata. I suoi creano tanto, sfiorano il vantaggio e dalla fine subiscono al 95esimo la rete di Bellomo che consegna i tre punti alla Regina. Tanto amaro in bocca dunque, ma anche la consapevolezza di avere le potenzialità per tirarsi fuori dalla zona play-out. Le proprie potenzialità sta cominciando ad esprimere la Virtus Francavilla. I messapici, dopo il pari con la capolista Juve Stabia, con il quale avevano chiuso il 2018, hanno iniziato l'anno solare nel migliore dei modi. Il 2-0 alla Cavese vale alla squadra di Trocini un preziosissimo più 5 dalla zona play-out e, dallo stesso tempo, apre prospettive nuove con una zona play-off distante altrettante lunghezze. In piena zona play-off, dopo l'1-1 con il Potenza, resta anche il Monopoli. Contro i Lucani, i Gabbiani giocano bene, soprattutto nella prima parte conclusa in vantaggio, grazie alla rete del solito Magni. Nella riprisa, gli uomini di scienza subiscono il ritorno di Franca e compagni che riprendono la gara, lasciando invariate le speranze di entrambe di regalarsi un posto nelle magnifiche 10.